Gentile pubblico, a nome di tutto il consiglio direttivo dell'associazione di promozione sociale Music Lab e a nome della presidente Vera Bugatti, vi do il benvenuto alla seconda edizione del concerto degli alunni frequentati i laboratori musicali organizzati dall'associazione Music Lab all'interno del liceo Carini. Benvenuti. Music Lab 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 Music Lab